Questa catenella di cui abbiamo tanto parlato in questa puntata, come si realizza? Innanzitutto per catenella si intende una serie di piombi, molto piccoli, micro piombi, che possono avere un peso di 0,30-0,50 grammi o anche un grammo, come in questo caso, in cui ho realizzato una catenella da un 4 grammi di peso totale, ovvero costituita da 4 micro piombi da un grammo ciascuno. Tra un piombo e l'altro ho interposto un tubetto in gomma siliconica che evita che il battere del piombo contro l'altro si rovinino. In più, qual è il vantaggio di una lenza catenella rispetto a una lenza piombino? Che la catenella ha un peso distribuito su una distanza maggiore. Di conseguenza il recupero in acqua risulta più morbido e per mantenere la nostra lenza e di conseguenza la nostra esca alla stessa altezza potremo recuperare più lentamente. Quindi una lenza da utilizzare in presenza di trote un po' più apatiche, a differenza del piombino che risulta una lenza ideale in presenza di trote vorace o in quantità.